Allora, io mi chiamo Francesca De Masi e faccio parte della cooperativa B-Free, che è una cooperativa che gestisce sul territorio romano e regionale diversi servizi antiviolenza e antitratta. So che avete avuto degli incontri anche molto interessanti prima di questo, che invece diciamo va più sul vivo delle donne che incontriamo tutti i giorni nel nostro lavoro. Parto però da una consapevolezza che è quella che guida il lavoro della cooperativa, ma anche delle associazioni che nel territorio italiano si occupano dell'accoglienza, del supporto e soprattutto dell'identificazione e dei processi di emersione delle storie di sfruttamento sessuale che molto spesso rimangono nascoste e appunto sommerse e quindi se rimangono nascoste e sommerse non è possibile aiutare queste persone attraverso l'accesso ai cosiddetti programmi di protezione sociale, che sono dei programmi appunto molto specifici proprio per le persone, sia uomini che donne, che si vogliono sottrarre ad una situazione di violenza, di sfruttamento e che sono comunque in pericolo per i tentativi appunto dell'organizzazione criminale di tenerle appunto sottomesse. Quindi diciamo che ci sono questi programmi di protezione che danno l'accesso a tutta una serie di servizi per questo tipo di persone. La tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale è un fenomeno strettamente correlato al genere, non solo perché il 90% delle persone che ne sono coinvolte sono donne e bambine, ma anche dal punto di vista qualitativo, cioè di quali sono e sicuramente ne avrete parlato anche con Francesco Carchedi, le cause che questo fenomeno alimentano e perpetuano. Possiamo accennarne qualcuna, la femminilizzazione della povertà, la violenza domestica, il mancato accesso molto spesso delle donne al potere nelle comunità e più in generale la disparità sociale, economica, di cure sanitarie e di accesso all'istruzione tra uomini e donne. Bifri si occupa per una serie di contingenze di donne nigeriane, soprattutto nigeriane, che rappresentano una delle due nazionalità in cui è più diffusa la tematica dello sfruttamento sessuale in Italia, le due nazionalità sono quella nigeriana e quella rumena. E diciamo che se noi vogliamo concentrarci appunto sulle donne nigeriane, per esempio sappiamo che partono da un contesto di provenienza in cui appunto se bisogna scegliere chi mandare a scuola tra un maschio e una femmina, si sceglie il maschio. Se bisogna scegliere chi curare all'interno di ospedali che sono estremamente costosi, ricordiamo che la Nigeria ha una popolazione, il 60% della popolazione nigeriana è in condizioni di estrema povertà. Quindi dicevo che se bisogna scegliere chi curare all'interno di questi ospedali tra il maschio e la femmina, si sceglie ancora, tuttora, il maschio. Le donne sono quelle che in Nigeria hanno anche il carico più pesante del mantenimento della famiglia. Appunto per questo si parla di femminilizzazione della povertà. Molto spesso le donne che noi incontriamo appunto hanno dovuto, che noi incontriamo qua in Italia, sono le stesse che in Nigeria dovevano mantenere la famiglia, molto spesso sono primogenite e sono quelle che appunto fin dalla tenerissima età, fin da 8-9 anni hanno cominciato ad aiutare la propria famiglia in questa, diciamo, lotta alla sussistenza e alla sopravvivenza propria di questo tipo di contesto. In questa condizione in cui appunto essere donne ancora significa un accesso differente ai servizi, al potere, alla possibilità di decidere del proprio destino, l'approccio di genere è quell'approccio che ci permette di contestualizzare proprio la violenza che le donne subiscono all'interno di una società che è ancora la legittima. Nello specifico B-Free diciamo che ha al suo interno la gestione sia dei servizi antiviolenza che dei servizi antitratta proprio per questo, perché riteniamo che la tratta non sia altro che una forma attraverso cui si esplica la violenza di genere, che sono tutte quelle forme di violenza che colpiscono le donne in quanto nate donne. Anche in Italia, lo sappiamo tutti e tutte, assistiamo a un femminicidio ogni tre giorni, diciamo che la violenza di genere purtroppo ha diverse forme attraverso cui si concretizza, una di queste forme è appunto la tratta di esseri umani. All'interno della Regione Lazio, allora io so che voi appunto, molti di voi sono anche dei volontari che si spendono tutti i giorni per offrire un sostegno a queste persone, quindi diciamo che avere un accenno a quello che esiste come progetti d'accoglienza, di supporto, di identificazione per le persone vittime di tratta può essere utile anche nella quotidianità. La Regione Lazio è il capofila di un progetto che si chiama Piano Regionale Antitratta Lazio, che ha come ente finanziatore il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. dei Ministri. La Regione Lazio è quindi il capofila e enti partner attuatori, sono dodici associazioni che all'interno di questo progetto, al cui interno c'è anche la Caritas, si occupano di pezzi diversi della stessa mission però. la mission è quella di favorire il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore di tutte quelle persone straniere che appunto vogliono sottrarsi ad una situazione di sfruttamento. Ovviamente per sottrarsi ad una situazione di sfruttamento noi queste persone le dobbiamo riconoscere, come dicevo prima, è molto difficile già a primo impatto che una persona vittima di un tale crimine, ricordiamo che è una delle violazioni di diritti umani più gravi al mondo secondo l'ONU, dicevo, incontrare per la prima volta una donna che ha subito una storia di tratta o di sfruttamento non è per niente semplice la possibilità diciamo che lei parli da sola della sua situazione e per questo che la prima fase imprescindibile nel processo di poi accoglienza e supporto è proprio la fase di emersione, cioè rendere dicibili delle storie che sono ancora indicibili, che sono ancora invisibili, che non conosce nessuno e diciamo che identificare quindi in questo modo una donna come sopravvissuta o ancora vittima di tratta di esseri umani ci permette poi di garantire a lei l'accesso appunto ai programmi di protezione sociale. Ci sono dei campanellini d'allarme, vengono chiamati indicatori, quando una donna ancora non è pronta a parlare in prima persona della sua storia di sfruttamento sessuale, gli operatori e le operatrici se ne possono accorgere e possono appunto far scattare quei campanelli d'allarme proprio attraverso quelli che si chiamano indicatori. Gli indicatori sono di natura diversa e vengono contenuti nel piano nazionale antitratta che il governo si è dato proprio per gestire il supporto delle persone che vogliono scappare da una situazione di tratta questo piano nazionale è stato fatto nel 2016, è scaduto nel 2018 ed ancora non è stato rinnovato con grande amarezza anche da parte degli enti antitratta però appunto se avete la possibilità di approfondirlo all'interno del piano nazionale antitratta ci sono appunto tutta una serie di questi campanellini d'allarme che possono farci risuonare cioè che possono farci capire che forse di fronte a noi abbiamo una potenziale vittima di tratta. Perché dico forse? Perché gli indicatori non sono una bacchetta magica che ci permette di capire tutto senza neanche parlare con la donna che abbiamo di fronte. La prima, la cosa più importante è ascoltarla ovviamente anche se all'inizio ci può dire delle bugie ascoltarla perché le storie non sono mai tutte uguali anche se è possibile avere dei fili conduttori che ci permettono di capire appunto questa eventualità questa potenzialità dell'essere vittima di tratta. Faccio un esempio molto semplice, molto anche quotidiano le donne vittime di tratta possono essere incontrate ovviamente in servizi di tipo diverso anche per esempio negli ospedali quando diciamo il personale sociosanitario incontra una donna potenzialmente vittima di tratta quello che potrebbe diciamo auspicabilmente scattare è proprio un'attivazione nell'ascoltare quello che c'ha da dire la donna e nel cogliere degli elementi che ci possono far comprendere qual è la sua reale storia. Faccio un paragone anche con le donne vittime di violenza domestica molto spesso le donne vittime di violenza domestica arrivano al pronto soccorso e dicono che hanno sbattuto alla porta, che sono scivolate dalla doccia ecco nonostante le loro parole il personale sociosanitario se è formato rispetto a questo può cogliere degli elementi appunto che possono far capire che invece che è caduta dalla doccia questa donna sia stata vittima di un'aggressione anche con le donne vittime di tratta è così e diciamo che nel nostro lavoro quotidiano quando incontriamo una persona vi facciamo delle domande anche molto generali, molto generiche per quanto riguarda le donne nigeriane molto spesso all'inizio ti diranno che loro fanno le treccine per sopravvivere ovviamente non perché a loro piace dire delle bugie ma perché hanno paura, ci sono tutta una serie di condizioni che ostacolano l'emersione della sua situazione, della sua situazione reale poi se abbiamo tempo possiamo anche snocciolarle tutte le difficoltà che queste persone hanno nel raccontare la propria storia io ho preso diciamo degli indicatori che possono essere utili nel senso che appunto questi indicatori il piano nazionale antitratta li ha fatti non solo per le donne vittime di sfruttamento sessuale ma anche per altri tipi di sfruttamento di cui sicuramente appunto avrete parlato nei precedenti incontri quindi quali sono per esempio gli indicatori relativi al reclutamento nel paese d'origine se una terza persona ha predisposto il viaggio, il necessario per il viaggio e i documenti se questi costi del viaggio sono molto alti rispetto a quello che costano normalmente se esiste un debito di viaggio, se per esempio i suoi familiari hanno garantito questo rimborso del debito se delle informazioni forviuanti sono state fornite dal reclutatore o dal datore di lavoro sul posto offerto sugli orari di lavoro, sul contratto, sull'alloggio allora questi possono essere dei campanelli d'allarme per quanto riguarda per esempio le donne nigeriane il reclutamento nel paese d'origine avviene proprio attraverso queste false promesse di un lavoro onesto e dignitoso in Italia e le informazioni forvianti che vengono date appunto in questo caso fanno assolutamente, accendono diciamo in loro la speranza di un futuro migliore dobbiamo sempre ricordare che le donne che noi incontriamo nelle unità di strada negli ospedali e all'interno dei centri d'accoglienza per richiedenti asilo hanno sempre delle grandissime aspettative o hanno nutrito delle grandissime aspettative sulla loro partenza sul loro arrivo in Italia o arrivo in Europa molto spesso queste aspettative poi si scontrano con quello che le aspetta veramente però a quel punto quando si accorgono che non era quello il lavoro che erano venute a fare molto spesso è troppo tardi e sono già invischiate in situazioni appunto di sfruttamento anche rispetto al debito di viaggio hanno delle informazioni molto forvianti nel senso che per esempio relativamente alle donne nigeriane loro hanno una moneta che è quella della Naira che è la moneta nigeriana che ha un valore molto 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 più basso rispetto a quello dell'euro quindi anche se la persona che ne sta organizzando il viaggio dice loro che avranno un debito di 40.000 euro per esempio loro non conoscono l'ammontare non conoscono quanto sono quanti sono veramente 40.000 euro 40.000 Naira saranno tipo 50 euro quindi diciamo che se loro fanno questo paragone pensano di poter diciamo estinguere questo debito in tempi molto molto veloci senza sapere che molto spesso invece ci metteranno anni anche i documenti se la donna non ha nessun documento se questi documenti li sono stati sottratti e vengono tenuti da qualcun altro se il nome con cui loro si presentano è diverso poi dal loro nome reale anche questi sono indicatori di un possibile sfruttamento per esempio diciamo che a volte diciamo quando i viaggi avvengono o comunque avvenivano perché per la maggior parte adesso avvengono via terra però soprattutto in passato per le ragazze nigeriane avvenivano con l'aereo e i passaporti preparati e falsificati dal racket criminale avevano, contenevano insomma dei nomi falsi, dei nomi diversi a volte diciamo anche i nomi che hanno in Italia possono essere state registrate dalla polizia con due, tre, quattro nomi diversi proprio perché molto spesso sono gli sfruttatori a dire chiamati in questo modo oppure sono gli sfruttatori a dire di alla polizia che sei maggiorenne e invece molto spesso anche per strada noi incontriamo delle ragazze che proprio ad occhio sembrano minorenni molto spesso la loro età non è appunto, non corrisponde a quella che noi vediamo e ipotizziamo proprio perché c'è questo passaparola all'interno degli sfruttatori in cui suggeriscono alla donna di registrarsi con un'età diversa con un'età superiore e le dicono che se si registra con la sua vera età nel caso in cui sia minorenne sarà rimpatriata subito in Nigeria quindi diciamo una serie di falsità e di sotterfuggi che rendono queste donne ancora più sottomesse se il soggetto presenta segni di violenza fisica anche questo è un indicatore se è stato obbligato a consumare droghe se ha subito minacce di violenza o abusi verbali se noi notiamo che è molto controllato il soggetto cioè che se appunto squilla sempre il telefono e la persona risponde in maniera agitata in maniera allertata se è stato minacciato di essere denunciato alle autorità se il soggetto è obbligato a commettere attività illecite e criminali tramite violenze psicologiche, minacce o abusi sessuali anche quella è una forma di sfruttamento altri indicatori sono relativi alla libertà di movimento molto spesso noi incontriamo delle donne che nonostante siano da 5-6 anni in Italia ancora non sanno neanche una parola di italiano allora questo non ci deve far dire che è automaticamente una vittima di tratta ma questa informazione è come se ci servisse a costruire con il passare del tempo e con il passare dei colloqui e l'acquisizione di maggiore fiducia a costruire una sorta di puzzle a risalire a quella che è la sua vera storia quindi diciamo che rispetto all'isolamento rispetto al fatto che molto spesso hanno vissuto in tantissimi luoghi in Italia anche quello può essere un indicatore della loro condizione di sfruttamento per una cosa molto triste perché una ragazza che sta sullo stesso mercato per troppo tempo perde valore e quindi gli sfruttatori tendono a spostarla e quindi noi per esempio quando le donne si rivolgono a noi si rivolgono agli sportelli con le associazioni di tutela dei migranti ci portano alla documentazione vediamo che ha un decreto di espulsione a Pescara uno ad Ancona la richiesta di asilo a Bari tutta una serie di città diverse che potrebbero appunto farci capire che magari questa donna è stata spostata proprio a questo scopo al soggetto ovviamente dice il piano nazionale antitratta viene negato il diritto di scegliere il luogo di residenza vive in condizioni che non raggiungono lo standard della decenza ed è controllato durante le telefonate o i contatti con amici o familiari poi diciamo quando inizierà anche un po' il dibattito vorrei capire anche da voi se avete incontrato per esempio questo tipo di storie e come è stato diciamo far emergere la reale situazione passo dopo passo per quanto riguarda per esempio lo sfruttamento lavorativo anche questi indicatori sono molto anche specifici su quello per esempio pensiamo alle donne cinesi che vivono e lavorano nello stesso posto quindi dormono nel posto in cui appunto lavorano questi diciamo appunto sono quelli che sono più importanti nel senso che potevano diciamo essere più specifici rispetto appunto a tutta una serie altra di indicatori che sono pagine e pagine quindi se avete la possibilità appunto sarebbe anche interessante andarseli a cercare tutti questi indicatori a che servono? ci servono appunto a cercare di far capire alla donna che abbiamo di fronte che noi sappiamo di quello di cui sta parlando che noi sappiamo che ci potrebbero essere delle cose che lei non ci dice per paura di ritorsioni, ripercussioni non so se avete parlato anche del rito giù giù e se non l'avete fatto ne parliamo insieme quindi diciamo che usare lo stesso linguaggio che usa la donna stessa conoscere le parole che lei usa e anche provare a dirle guarda che io operatore, operatrice so che molto spesso alle donne provenienti dal tuo stesso contesto succede questo, questo e quest'altro non so se è quello che ti è successo anche a te però se ti dovesse essere successa una cosa del genere sappi che noi siamo in grado di aiutarti il fine di questo processo di emersione è quella che viene chiamata identificazione io premetto che questa parola diciamo non mi piace molto perché diciamo che sollecitano anche delle particolari attività attività di per esempio di polizia di identificazione esclusivamente anagrafica e quello che succede dentro Ponte Galeria per esempio che è il centro di detenzione amministrativa dove BFRI ma anche altre associazioni e qui c'è anche Monica di Sant'Egidio che saluto calorosamente perché non la vedo da un sacco di tempo hanno delle attività proprio volte a capire come aiutare le persone che sono trattenute dentro Ponte Galeria ci sono anche delle suore della congregazione che vanno dentro Ponte Galeria e tutte le associazioni vogliono capire appunto se c'è una possibilità di effettuare un tipo di identificazione che invece è un processo virtuoso l'identificazione non può essere nome, cognome, provenienza geografica e numero di telefono l'identificazione intesa come la intendono gli enti antitratta è quel processo virtuoso che piano piano attraverso l'acquisizione di una fiducia con la persona che abbiamo davanti consente di far emergere la sua reale situazione perché è così importante che emerga la sua reale situazione? perché ci sono in Italia delle leggi che proteggono e assistono le persone vittime di tratta e se però non riconosciamo che quella che è davanti a noi è una vittima di tratta ovviamente queste leggi non le possiamo applicare facciamo ancora una volta l'esempio di Ponte Galeria a Ponte Galeria sono trattenute le persone che non hanno un permesso di soggiorno non ci si interroga sul motivo per cui non hanno il permesso di soggiorno quindi il compito delle associazioni è proprio di capire perché non hanno avuto la possibilità di avere un permesso di soggiorno e magari scoprire in questo modo che erano appunto delle schiave sessuali o erano delle donne sfruttate o che hanno subito violenza ci sono diversi tipi di identificazione scusate siccome si è fatto buio vado un attimo ad accendere la luce scusatemi un attimo scusatemi dicevo ci sono vari tipi di identificazione l'identificazione precoce è quella che ci può interessare maggiormente viene definita anche identificazione preliminare e lo possono fare tutti tutti i servizi sociali i tribunali le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale gli operatori dei CAS e dei centri d'accoglienza più neutri cioè non specializzati dicevo su su lo stato di vittima di tratta tutti questi stakeholders questi enti istituzionali o del privato sociale se si rendono conto che la donna che hanno davanti è una probabile vittima di tratta possono identificarla preliminarmente e inviarla successivamente all'ente antitratta per quella che viene definita identificazione formale l'identificazione formale è quella fatta proprio dagli enti antitratta cioè da soggetti qualificati e autorizzati che possono in maniera definitiva accertare se la persona sia effettivamente una vittima di tratta questa diciamo la facciamo un esempio pratico in cui può avvenire questa identificazione preliminare e poi la successiva identificazione formale per esempio in sede di audizione della commissione territoriale per il riconoscimento dell'asilo politico se dalla storia che racconta la ragazza ai commissari emerge una potenziale situazione di tratta o di sfruttamento sessuale allora la commissione è in grado di riconoscere e quindi di fare una sorta di identificazione preliminare e poi di inviarla come referral all'ente antitratta ultimamente dal 2017 ci sono e ve l'ho scritto anche qui nelle slide delle linee guida fatte dall'UNHCR per riconoscere appunto e garantire questo referral dalle commissioni agli enti antitratta ed è qualcosa che sta cambiando il panorama del supporto e dell'emersione delle storie di tratta quindi diciamo che una prima identificazione che può essere anche per esempio uno screening sanitario attraverso cui si stabiliscono che ci sono degli indicatori fisici che fanno presupporre che questa donna abbia avuto una situazione di violenza l'esempio più bello in questo caso è per esempio il progetto dell'ospedale San Gallicano degli NMP che adesso però come tutte le cose belle è finito e non si sa quando riprenderà cioè gli NMP aveva un progetto in cui si faceva uno screening sanitario ginecologico soprattutto e veniva diciamo affiancato questo screening sanitario a dei colloqui con l'assistente sociale con la psicologa e in conclusione anche con un'avvocata e tutto questo pacchetto di informazioni che veniva preso sulla donna e con la donna ovviamente con il suo consenso e la sua autorizzazione perché non facciamo niente e non dobbiamo fare niente che la donna non sia pronta a fare veniva preso e inviato agli enti antitratta che potevano in questo modo fare quella che viene definita appunto l'identificazione formale dopo questa identificazione cioè come terzo tipo di identificazione ci sta la auto-identificazione che secondo me è il tipo di identificazione più importante cioè è il tipo di identificazione in cui è la persona stessa che si riconosce come vittima di tratta e riconosce che è stata perpetrata contro di lei una grave violazione dei suoi diritti umani e questa auto-identificazione senza sovradeterminare la donna che abbiamo di fronte è quella che stimola maggiormente il cambiamento perché se io sono la prima prima di tutto io sono la migliore conoscitrice della mia storia quindi la porto come un patrimonio alle persone e alle istituzioni che mi vogliono aiutare quello significa che sto diventando agente di cambiamento e a questo proposito volevo anche fare un riferimento anche alla parola vittima nel senso che io sono diciamo di formazione sociologica e antropologica quindi diciamo che le parole appunto come per tutti hanno un peso la parola vittima tende a schiacciare la persona in una situazione di immobilismo di passività e di mancata agency cioè di mancato cambiamento io preferisco usare la parola sopravvissute perché la parola sopravvissute ha con sé ha dentro di sé diciamo che è meglio in inglese survivors una che è sopravvissuta e significa che ha elaborato delle strategie di resistenza e di sopravvivenza che la fanno appunto diventare come dicevo prima agente di agente di cambiamento perché poi le donne molto spesso hanno la capacità di salvarsi da sole e noi magari possiamo subentrare solo in un secondo momento mi spiego meglio diciamo che il primo passo ovviamente lo deve fare lei non è che possiamo prenderla dal marciapiede e metterla sul furgone dell'unità di strada e farla scappare no? non si può fare per tanti buonissimi motivi quindi diciamo che il nostro compito è quello di seminare un pezzetto alla volta di consapevolezza rispetto alla propria situazione ed è anche noi abbiamo anche il compito di informare le persone che incontriamo rispetto a come diventare titolari essere titolari di diritti e usufruire di questi diritti sono loro le prime agenti di cambiamento noi le possiamo solamente supportare non possiamo sostituirci a loro anche per esempio rispetto a le denunce alle denunce che le donne molto spesso fanno contro gli sfruttatori ovviamente deve essere lei in prima persona a decidere se denunciare lo sfruttamento subito come fa a decidere? tramite tutta una serie di informazioni che è l'operatore e l'operatrice a dovergli fornire che cosa significa nell'ordinamento legislativo italiano appunto effettuare una denuncia a cosa che cosa comporta quali sono i passi del procedimento penale e qual è il supporto che l'ente antitratta può dare per il sostegno e l'assistenza processuale se le persone sono informate a 360 gradi e in maniera anche molto minuziosa perché dobbiamo ricordarci che vengono da posti paesi totalmente diversi dal nostro senza fare una classifica che è meglio che è peggio semplicemente sono altri sono altri contesti altre culture altri quindi diciamo che bisogna spiegare loro passo dopo passo che cosa comporta l'ordinamento legislativo italiano che cosa comporta l'emersione l'identificazione come vittime di tratta e se loro hanno tutte gli strumenti di conoscenza a loro disposizione saranno in grado di decidere per la loro per la loro vita avrete sicuramente sentito parlare del numero verde antitratta nazionale che risponde all'800 290 290 ultimamente si sono forniti e questa è anche un'informazione importante di un altro numero di telefono perché che cosa succedeva negli ultimi anni che la maggior parte delle donne nigeriane aveva laica mobile come ente gestore come gestore telefonico e semplicemente laica mobile non sono in grado di fare i numeri verdi quindi molte ragazze molte donne cercavano di chiamare e non gli prendeva proprio la linea perché laica mobile non lo permetteva quindi a questo numero si è affiancato un altro numero diciamo di cellulare più normale che può essere raggiunto anche appunto da tutti i gestori telefonici quindi questo numero e anche quell'altro il 342 magari poi se avete necessità ve lo scrivo sulla chat risponde da Venezia e Venezia è il centro di smistamento e di coordinamento di tutti i progetti antitratta diffusi sul territorio nazionale ce ne sono circa 20 di progetti regionali antitratta praticamente in tutte le regioni il nostro la nostra postazione locale è gestita dalla cooperativa Magliano 80 che quindi risponde H24 a le richieste di aiuto che possono anche essere da parte di un passante da parte di un di una persona che sta camminando per strada e vede una donna in difficoltà e gli chiede se ha bisogno di aiuto può essere utilizzato dalle vittime stesse questo numero di telefono oppure da tutti gli enti del privato sociale o istituzionale che hanno bisogno anche di suggerimenti su quello sul da farsi rispetto appunto alla donna che hanno di fronte il colloquio con le donne è una è un momento molto delicato dobbiamo ricordare che appunto noi in quanto operatrici bianche occidentali gestiamo anche un potere nei loro confronti questo è molto visibile e chi viene a Ponte Galeria lo forse lo può anche evidenziare meglio appunto dentro a luoghi come quelli di Ponte Galeria in cui tu entri là dentro e le persone che stanno di fronte a te non sanno chi sei non sanno che potere hai nei loro confronti non sanno se sei un puliziotto se sei un giudice se lo giudicherai quindi diciamo la prima cosa da fare è quella di presentarsi in maniera da mettere a proprio agio quanto più possibile la donna che abbiamo di fronte presentarsi significa appunto presentare le proprie attività rassicurarle sul fatto che nessuno farà delle cose contro la loro volontà e che noi non siamo qui né per giudicarle né per rimpatriarle ma anzi per per aiutarle dobbiamo appunto come c'è scritto qui sospendere il il giudizio anche quando una donna evidentemente ci sta raccontando delle cose non vere se ci sta raccontando delle cose non vere significa che ancora non è pronta a farlo significa che ancora non si fida di noi significa che molto spesso anche la sua comunità di riferimento è molto più forte di quello che c'è della forza che possono esprimere appunto gli operatori e le operatrici delle associazioni cioè è normale che una persona si fida più della sua comunità di riferimento piuttosto che è di un perfetto o di una perfetta sconosciuta la riservatezza e la sicurezza sono molto importanti allora vi faccio un esempio pratico io sono stata ormai nel 2012 facevo attività di emersione dentro Alcara di Castelnuovo di Porto che adesso è chiuso per fortuna nel senso che il CARA il centro d'accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto aveva tutta una serie di criticità molto forti rispetto anche a delle mancanze di sussistenza materiale delle persone dei 600 ospiti che erano appunto che permanevano in quella struttura allora io mi ritrovavo a dover parlare dell'articolo 18 della protezione sociale dell'essere vittima di tratta con delle ragazze che dovevano combattere contro le cimici dentro i letti allora oppure di ragazze che avevano magari un figlio e non avevano i pannolini e i pannetti per il bambino allora ovviamente questa cosa non può funzionare nel senso che bisogna prima diciamo cercare di soddisfare quanto più possibile le loro esigenze materiali o comunque dimostrare che ci si sta attivando per risolvere delle problematiche relative alle loro esigenze materiali e poi appunto la donna avrà l'agio di potersi anche fidare di noi l'utilizzo di un linguaggio vicino a quello della donna chiaro e comprensibile è anche questa una cosa molto molto importante nel senso che per esempio nell'esperienza con le donne nigeriane utilizzare proprio dei loro modi di dire appunto ti dà quella spinta in più no dire cioè dimostrare che tu conosci che cos'è il rito giù giù che cos'è il native doctor cosa comporta il giuramento tutte queste cose ovviamente nel momento in cui hai stabilito un minimo di relazione di fiducia con lei non fanno altro che far capire alla donna che la sua storia è credibile che tu sai quello di cui ti sta parlando che tu sei informata e che quindi le cose che ti raccontano che sono molto spesso rocambolesche molto brutte orribili e che appunto a volte sono proprio incredibili nel vero senso della parola nel senso etimologico cioè che non ci si può credere quindi diciamo che loro partono da questa paura mi crederanno se io gli dico che non so sono stata venduta o sono stata in un ghetto in Libia o che sono stata oggetto di un giuramento mi crederanno allora utilizzare queste parole e parlare lo stesso linguaggio della donna può aiutare può aiutare molto ovviamente dobbiamo tenere in considerazione io quanto tempo ho ancora pochissimo mi sa il contesto di origine nel senso che ovviamente appunto noi non crediamo al rito giugiu però non possiamo dirglielo non possiamo sminuirlo non possiamo schernirlo non possiamo dire a lei ma non ti preoccupare non ti farà niente perché appunto significa sminuire quello che loro credono che invece sia vero e è reale anche conoscere appunto in generale il contesto di appartenenza di origine serve serve moltissimo posso fare un esempio molto pratico molto anche anche veloce molto spesso gli operatori e le operatrici dei centri d'accoglienza degli sportelli si lamentano un po' di quanto socchiassose queste ragazze nigeriane di quanto sono inclini all'aggressività allora quello per esempio è un pregiudizio che deriva dal fatto che si conosce poco il loro contesto d'origine perché a me mi viene da dire che se in Nigeria non sei aggressiva muori dopo due giorni perché la vita è talmente tanto difficile e si deve sgomitare per la sussistenza e la sopravvivenza che poi è difficile abbandonare quella modalità di comportamento dopo soli sei mesi ma anche dopo soli due anni che loro si trovano nel contesto italiano quindi diciamo che questa cosa la dobbiamo avere sempre presente non per giustificare basta in maniera pedissequa e non utile i loro comportamenti ma per leggerli all'interno nel contesto di una loro storia che noi non possiamo cancellare del tutto in appunto un anno un anno e mezzo di anche struttura protetta anche struttura d'accoglienza anche quotidianità con loro i cambiamenti si vedono passo dopo passo e sono molto belli da vedere danno molta soddisfazione ecco la ricostruzione del sé vado veloce è molto difficile perché sono donne che hanno subito violenza in tutte le fasi del percorso molto spesso scappano da violenza nel loro paese d'origine l'hanno subita nei paesi di transito le donne nigeriane per esempio vengono iniziate a quello che verranno a fare in Europa proprio in Libia proprio durante il viaggio stupri connection house iniziazione alla vita appunto che le aspetterà una volta in Italia e nei paesi d'arrivo anche dove prima diventano migranti irregolari e poi in attesa di parere di meritorietà delle protezioni è come se dovessimo essere noi a decidere della vita e della morte di queste persone e molto spesso anche l'ottenimento del permesso di soggiorno è qualcosa di lungo che le relega ad un'attesa che è non vita per per loro hanno fretta parliamo ricordiamo quelle aspettative di cui parlavamo in all'inizio loro hanno delle grandi aspettative e molto spesso vengono deluse queste aspettative ovviamente nelle donne vittime di tratta ci sono anche sentimenti di colpa molto forte di responsabilità dovute alle pressioni non solo del racket ma anche delle famiglie le famiglie sono rimaste per esempio in Nigeria ok e hanno investito nel fatto che questa ragazza è arrivata in Italia quindi molto spesso chiamano per chiedere soldi proprio per in virtù di quella concezione di quella favola per cui appunto in Europa è tutto facile e le donne e gli uomini che arrivano in Italia possono essere possono essere appunto ricchi sfondati ecco la un rischio in questo contesto di accoglienza e di diciamo più generale è anche la ritraumatizzazione no sono donne che sono a volte costrette a raccontare la loro storia altamente traumatica e prima la devono raccontare all'ente antitratta e poi la devono raccontare alla commissione se hanno fatto la denuncia la devono raccontare anche al al tribunale tutta una serie di racconti che ovviamente vengono richiamati vengono chiamati vittimizzazione secondaria che è quella vittimizzazione che appunto deriva non dall'esperienza diretta ma dal fatto che è come se appunto si vivesse insieme al trauma per non staccarsene staccarsene mai io finisco con questa slide vedo che Don Ben è anche qui sulla concezione di sul significato di empowerment che è lo scopo per cui il nostro lavoro ha senso l'empowerment che cos'è è il riprendere il potere delle proprie vite nelle proprie mani quando questo potere ti è stato strappato da qualcun altro quindi è una parola bellissima no perché ridà potere alle persone sia uomini che donne che a cui il racket lo sfruttamento non è stato capace di togliere tutto un pezzetto della loro storia delle loro skills delle loro competenze del loro desiderio e della loro speranza per il futuro sono rimaste là dentro sono rimaste dentro di loro e il nostro compito di operatori operatrici è quello di tirarle fuori queste competenze di tirarle fuori questi desideri e di fare in modo che nel futuro non abbiano più bisogno di noi ecco noi lavoriamo per questo per fare in modo che la persona che abbiamo di fronte in futuro non abbia più bisogno dell'assistenza perché sarà in grado di andare con le proprie con le proprie gambe grazie ho finito grazie Francesca forse vale la pena lasciare spazio a qualche domanda a qualche riflessione quindi io se sei d'accordo con me lascio liberi i microfoni però con l'accortezza di ognuno dopo aver parlato fatto la domanda di chiudere il suo perché altrimenti si sovrappongono le voci anche per la registrazione non va bene allora un attimo adesso ognuno è libero di riattivare il microfono e poter fare la domanda mentre arriva qualche domanda faccio una considerazione Francesca ha fatto più passaggi nel suo intervento sulla durezza giustamente di queste donne che poi sono abituati ad avere una vita dura giù una vita dura durante il viaggio un'altra tanta qua perdono anche il rispetto di se stesse certe volte è lentamente la ricostruzione molto difficile e la durezza che poi penso che molti di noi hanno avuto modo di toccarla personalmente per cui sembrano chiuse non vogliono parlare stanno sempre tra di loro e così via non è che si può cambiare questa durezza se non con una grandissima pazienza di affiancamento relazionale rimandando costantemente uno sguardo invece di stima di ricerca della sua persona così a rimandare costantemente uno sguardo umano avvolgerle quasi con uno sguardo diverso e probabilmente poi dopo tantissimo tempo lentamente cadono tutta una serie di difese perché sono giustamente difese che si rivelano in tutta la loro anche di umanità bella e in tutta l'umanità ferita che poi è capace di una grande resilienza quindi rispetto a questa durezza ecco mi pare l'unico antidoto che mentre Francesca anche parlava mi chiedevo quale fosse mi pare l'unico è proprio una grandissima pazienza uno sguardo avvolgente di proprio di restituzione di umanità insomma ecco non so se c'è qualche domanda o considerazione gli ho tramurtiti forse ecco c'è qualcuno che scrive invece Sara Orten si chiede quali sono i fattori che possono ostacolare o condizionare la relazione d'aiuto tra operatrice e donna e quali sono gli elementi che la favoriscono che bella domanda è una domanda molto interessante forse sono ancora tutti silenziati provate adesso ecco vai Francesca ok ok allora Sara dicevo una domanda molto interessante è molto puntuale diciamo che ce ne sono tanti di fattori che possono ostacolare la relazione d'aiuto da parte delle operatrici per esempio può essere il nutrire delle aspettative nei loro confronti nel diciamo personalizzare talmente tanto questa battaglia che poi pretendiamo che la donna sia del tutto plasmata rispetto a quello che noi pensiamo che sia giusto per lei dico questo perché molto spesso le strategie di sopravvivenza e di resistenza delle donne che noi incontriamo o di resilienza come le chiama Don Ben giustamente delle donne che noi incontriamo si scontrano un poco con quello che noi operatori pensiamo faccio l'esempio fondamentale della percezione del pericolo cioè la percezione del pericolo è qualcosa che è in capo alla donna molto spesso noi abbiamo una concezione cioè ascoltando la storia della donna abbiamo una concezione del pericolo di quello che lei potrebbe subire che è molto differente da quella che lei stessa ha della propria situazione quando per esempio la donna è scappata e sono passati anche dei mesi o degli anni dallo sfruttamento subito lei ha acquisito una serie di strumenti di tutela di se stessa che magari non sono gli stessi che attueremmo noi gli elementi che invece la favoriscono secondo me ed è un po' mi collego anche a quello che diceva Don Ben è la continua rinegoziazione cioè bisogna continuamente rinegoziare i progetti e la progettualità delle donne proprio perché non abbiamo un progetto standardizzato in cui quello che va bene per noi va bene anche per loro per esempio ci sono molte donne che non se la sentono di entrare in struttura protetta allora quelle non sono meno vittime di tratta di quelle che invece in struttura protetta ci vogliono entrare quindi la rinegoziazione in questo senso no nel nell'andarsi incontro rispetto anche a delle cose che sono molto strane per noi no non so parliamo per esempio del cibo nigeriano il cibo nigeriano è qualcosa che fa da spartiacque proprio nel senso che se per esempio noi appunto la ragazza le donne stanno in Italia quindi dovrebbero imparare a mangiare italiano ok però diciamo soprattutto all'inizio forse hanno bisogno anche di conservare un po' della nigerianità del loro cibo proprio per fare questo ecco un po' entro dentro la cultura italiana un po' rimango nella mia cultura un po' e un po' in maniera che appunto alla fine magari arrivi a fare il cibo nigeriano la domenica e tutto il resto è cibo italiano tutti gli altri giorni però diciamo il tagliare con l'accetta no qua stiamo in Italia e si mangia solo cibo italiano io per esempio non sono non sono d'accordo soprattutto se si sta ad una fase per esempio il mio lo struttura protetta che gestisco io è una struttura di prima accoglienza no quindi c'è sono appena uscite dallo sfruttamento dalla loro situazione quindi magari giustamente Maria Grazia dice gli italiani all'estero muoiono senza gli spaghetti è vero quindi magari una donna che sta in un secondo livello di accoglienza è più abituata a mangiare italiano quindi una continua rinegoziazione ecco è in questo senso vi ho fatto un esempio stupido ma è molto calzante rispetto invece alle problematiche quotidiane delle donne che incontriamo ben rivista Francesca e grazie mille per la tua presentazione che è sempre di stimolo no io sono molto d'accordo con quest'ultima e tue considerazioni perché sempre più incontriamo ragazze che stanno con l'unità di strada che sono sulla strada da tantissimo tempo e hanno trovato un modus di vendi diciamo ecco e queste persone non sono più disponibili diciamo a entrare in una struttura protetta tante volte ci dicono sono venuti già le church people che sarebbero appunto le unità di strada delle parrocchie però io non me la sento perché poi dopo non posso più magari fare questo fare quest'altro e quindi è importante trovare delle nuove modalità diciamo di continuare a seguirle con un grande abbraccio anche in questa loro condizione mista diciamo così non totalizzante la proposta in alcuni casi non può essere totalizzante perché altrimenti viene rifiutata quindi con i corsi di formazione con i momenti di socializzazione che poi portano piano piano anche a un desiderio di dare una svolta ecco però piano piano questo è molto importante e poi anche un'altra cosa è che purtroppo assistiamo sempre di più al fatto che i cast gli strar non vogliono le nigeriane perché se sono troppe si qualizzano eccetera eccetera per cui veramente io non mi stancherò mai di dire quanto sono simpatiche perché io le amo moltissimo e mi diverso con loro è vero fanno scusate casino fanno un gran casino però è anche vero che sono persone di una vitalità incredibile che è incomiabile perché con tutto quello che hanno vissuto cioè veramente tanto di cappello ecco quindi io mi batto perché siano accolte comunque e lì dove non si trovano delle soluzioni ne dobbiamo cercare altre insomma ecco sì scusa Francesca volevo farti una domanda si sente? sì Paola sì sì sono Paola intanto grazie per il tuo intervento così appassionato così puntuale così appassionato io volevo chiederti il nostro sistema diciamo a livello istituzionale a parte il primo periodo dove giusto come diceva anche Don Ben che ci sia questo abbraccio quindi questa cioè trasmettere come dire un'apertura da parte nostra per per l'accoglienza no e per la tutela dei loro diritti eccetera in un momento successivo quando in qualche modo c'è stato uno smarcarsi da questo da questo sistema che le che le avvolge e le porta via da una da un percorso di vita regolare così come vorremmo che fosse no anche per loro quale sono gli strumenti che noi abbiamo per permettere loro un efficace rinserimento cioè non so se mi sono spiegata all'inizio chiaramente hanno bisogno di accoglienza di sussistenza di ambienti protetti eccetera però poi se veramente le vogliamo aiutare dobbiamo fare in modo che non sia solamente assistenza ma che riescano in qualche modo a camminare con le proprie gambe quindi a rendere efficace il loro inserimento sociale quali sono questi strumenti e nella tua esperienza questo avviene allora sì alcune volte questo avviene diciamo che gli strumenti ci sono ma secondo me andrebbero migliorati appunto come dice Monica anche resi più adatti ai tempi di adesso nel senso che noi stiamo parlando dell'articolo 18 che è un qualcosa che è nato nel 1998 quando erano diverse le tratte dello sfruttamento le donne che avevamo di fronte e diciamo che quel sistema è stato fatto in quel momento e poi non è stato più modificato ovviamente però anche l'articolo 18 non essendo un'oasi nel deserto è stato messo insieme a tante altre leggi che erano molto repressive nei confronti degli stranieri e quindi anche l'articolo 18 ha perso il suo potere nonostante non sia mai stato cancellato come articolo né da Salvini né da Maroni né da Minniti eccetera eccetera i programmi di protezione sociale come dicevo anche all'inizio queste 12 associazioni mettendo facendo l'esempio del Lazio dicevo fanno cose diverse perché proprio arrivano a momenti diversi della vita delle donne quindi per esempio se B3 gestisce la prima accoglienza poi la ragazza andrà se vogliamo diciamo rimanere sempre nello stesso sistema antitratta la ragazza andrà in seconda accoglienza se la prima accoglienza ha come criterio quello di stabilire un piano di lavoro con lei per cui si arriva per esempio ad una regolarizzazione alla scuola d'italiano e anche ad un bilancio delle competenze in questa prima fase diciamo nella seconda fase si mira ad effettuare il vero e proprio o a iniziare il vero e proprio processo di integrazione la seconda accoglienza è più mirata a quello quindi non so terza media anche la presenza di borse lavoro questo strumento per esempio delle borse lavoro è molto interessante le borse lavoro sono praticamente dei periodi in cui la donna può lavorare in un'azienda in un albergo trovato da un'associazione antitratta pagata dall'associazione antitratta quindi diciamo per il datore di lavoro questo è prima di tutto molto conveniente perché ha una persona diciamo a sua disposizione lavorativamente senza pagarla e dovrebbe dare la possibilità al datore di lavoro di conoscere questa persona e di formarla auspicando una futura assunzione quello che per esempio a volte invece succede è che le aziende si prendono questi sei mesi di manodopera gratis però poi fanno delle attuano dei pretesti per cui poi quei sei mesi rimangono solo sei mesi e non c'è alcuna assunzione per esempio quindi questo a volte non è sempre così ci sono delle aziende delle serie poi diciamo che sta anche all'esperienza della cooperativa che sta in carico a queste borse lavoro capire quanto quanto è affidabile un'azienda e più sperimenti più capisci chi sono le le aziende affidabili però questo è anche molto importante anche anche dal punto di vista esclusivamente formativo noi abbiamo avuto delle donne che hanno lavorato nella paninoteca che ne so nella casa di riposo in una serie di ambienti in cui loro possono anche esercitarsi rispetto appunto ad un contesto che è molto diverso dal contesto protetto a cui loro sono abituate quando stanno in struttura e poi ci sono anche una terza fase dell'accoglienza che è quella della semiautonomia ci sono delle case di semiautonomia che servono proprio stanno a metà tra un centro d'accoglienza vero e proprio e una casa vera e propria cioè sono per quelle donne che magari hanno trovato anche un lavoro si stanno rendendo piano piano indipendenti però ancora non sono pronte a spiccare il volo in maniera del tutto autonoma e quindi vengono aiutate in questo senso all'interno di case in cui però loro abitano in maniera autonoma non hanno la presenza degli operatrici 24 ore al giorno ma l'operatrice va una volta a settimana oppure si incontrano allo sportello insomma per fare le cose step by step però per esempio per entrare nelle case di sema autonomia siccome è previsto anche il il contributo non all'affitto ma per esempio alle spese cioè è la donna stessa che deve pagare le spese delle bollette la spesa quotidiana eccetera eccetera deve essere un pochino forte no da questo punto di vista cioè non può andare in semi autonomia a una donna che non ha per niente lavoro ecco questo diciamo è il panorama più più specifico del sistema antitratta poi ci sono quelle donne che possono anche in un secondo momento entrare negli sprar perché non sono due cose sconnesse no oppure due cose che una esclude l'altra a volte a volte a noi capita che magari facciamo una valutazione del rischio durante la prima accoglienza in cui arriviamo a pensare insieme alla donna che magari il pericolo o è finito o per esempio non c'è stato e quindi che loro possono entrare anche in uno sprar a volte succede che invece di entrare in seconda che entrare in seconda accoglienza nell'antitratta magari accedono agli sprar ovviamente se ci sono tutta una serie di condizioni che non le mettono a rischio no perché gli sprar non sono strutture protette però appunto se la mamanna nigeriana è stata rimpatriata se sta in carcere se la ragazza abita mille chilometri lontana 600 chilometri lontana dal luogo dello sfruttamento ci sono tutta una serie di di situazioni per cui può entrare anche in uno sprar e usufruire del sistema dell'accoglienza sprar che adesso si chiama SAI tra l'altro sistema d'accoglienza integrato ad oggi si chiama SAI poi vedremo se cambieranno di nuovo eh lo cambiano ogni anno quindi vediamo in questo momento di estrema appunto precarietà anche di emergenza sanitaria purtroppo c'è il rischio che alcune donne possano tornare indietro rispetto ai percorsi che hanno fatto magari che perdono il lavoro perché lo stiamo appunto perdendo un po' tutti quindi questo contesto di particolare difficoltà è molto delicato per è delicato per tutti insomma però per le vittime di tratta in particolar modo perché magari tutto un bagaglio che loro si erano create ed avevano sperimentato viene a mancare e quindi bisogna ricominciare non dico tutto tutto da capo ma molto da capo insomma bene vediamo se c'è un ultimo intervento no va bene io direi che ci possiamo anche fermare allora grazie Francesca anche per io mi scuso con tutti quanti voi per essere arrivato in ritardo ma qualche volta ecco mettere i tezzi insieme e quindi grazie Francesca per quello che hai condiviso e ci hai comunicato questa sera grazie a voi per avermi offerto lo spazio certamente come come vedete stiamo provando lentamente lentamente ad inoltrarci anche in questa seconda parte del nostro percorso che sono gli strumenti diciamo così il nostro prossimo incontro dovrebbe essere il 29 di marzo 29 marzo sì con suor nieves proprio proveremo ad affrontare che bisogna anche lavorare su se stessi lavorare sui propri pregiudizi perché anche alla luce delle cose che emergevano oggi chiaramente se uno non ha un controllo di se stesso una consapevolezza buona di sé e si presenta con tanta buona volontà di aiutare magari a volte riceve semplicemente dei ritorni di rifiuto o anche di aggressività e non ha gli strumenti per gestire questa situazione come dire molla in un attimo quindi anche anche il percorso su se stessi è altrettanto importante per fare un lavoro con con le stesse ragazze che si incontrano ovviamente ecco la prossima volta aggiungeremo quest'altro tassello grazie a tutti